Allora oggi vi facciamo vedere come si fa l'aglio e l'olio peperoncino in casa nostra. Allora ci si procura un aglio, un capo d'aglio, la regola sarebbe due spicchi a persona però noi, siccome ci piace parecchio, oggi siamo in due e se ne fa praticamente due, quattro, sei, otto, dieci, undici spicchi per due persone. Si pela l'aglio, per benino, si leva la pellicola, così. Questo è un elemento abbastanza essenziale per la riuscita del piatto. Poi si apre lo spicchio e si cerca di togliere l'anima dell'aglio che è quella che praticamente torna a gola e si butta dentro la padella. Qui ce ne avevo altri due belle pronti, si butta la padella, poi altri spicchi. qui ce ne avevamo la padella. Intanto ho messo l'acqua a bollire e sta già bollendo però ancora la pasta non la butto. a bollire. Ok. Vedete? Si deve togliere l'anima, soprattutto se l'aglio è un crino vecchio e quest'anima abbastanza abbondante, è sempre meglio toglierla. È un aglio un po' strano eh? Ogni spicchio, c'è due spicchi, tra dicernomi. Qui ce ne sono altri tre, facciamoli dai, è più buono, nemmeno per noi. Un buon aglio e olio e peperoncino taglio ci deve essere qua. a部分. 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 Ok, allora, eccolo qui. Poi, si prende un peperoncino con questo vaso secco e si mette dentro la serrita, io ci metto l'altro perché non ci piace piccante. Poi, si prende olio possibilmente buono e si mette un uva abbastanza abbondante, non abbondantissimo ma abbastanza abbondante. Diciamo che la partita giusta per due persone è questa. La padella è un po' fuori misura, non tutti ce l'avranno a casa, però va bene. Poi, non so che cos'è, l'acqua sta bollendo. A questo punto si sala l'acqua. E si butta qua e si butta la pasta, così. Ok, poi si prende due accessori, ma è molto indispensabile. Queste, come si fa con questa ricetta, non c'è, si mette la pasta tutta dentro all'acqua e intanto si dà l'aria agli uomodi dell'olio. Aggiornate le pinze a tutta la pasta e lasciate questa qui, mi sembra ci vuole, questa qui ci vuole praticamente. Tempo di cottura, tempo di cottura, tempo di cottura, 8 minuti. Alexa, metti un timer a 5 minuti. Alexa, metti un timer a 5 minuti. Basta. Ok, intanto, come vedete, inizia a essere caldo l'olio e quindi l'aglio si sta iniziando a cuocere. Prendete un bel coltello, come questo per dire, e lo mettete ridere a parte. Questo si leva, e lo mettete ridere a parte. State attenti a non far bruciare l'aglio. Non è semplice, perché è abbastanza facile, e non ce ne stanno, però, magari vi potete ridurre in un cucchiare. E al momento che vedete che comunque sta prendendo un po' di colore, dovete spegnere il gas, e poi lo faccio vedere la ricetta. E poi lo faccio vedere la ricetta. E poi lo faccio vedere la ricetta. Mettetelo tutto insieme, vedremo anche il secco di girarlo. Ok? Atenzione che non bruci, perché se bruci allora è mentre avrete tolto l'anima, con la cola comunque. Dove essere cotto giusto. Al momento devi prendere un po' di giallino, ma proprio appena appena appena. Poi ci sono pezzetti più piccoli, che non si togliene prima. Per dire questo, si mette sul tagliere. Ok? Poi via via vedete che ci sono dei pezzi che si possono cogliere. Per dire questo è bello un po' giallino. Questo più piccolo si leva. Questo si leva. Se no, si brucia. Perché una volta ne parte, non si ferma più. Prendiamo. Si può spegnere il fuoco. E si leva l'aglio. Si leva l'aglio. Se lo so, la distrugiamo. Questo si devi riparare anche, come vi dicevo, non copiare. se vedete che ci sono degli agli che sono andati un po' troppo in lama non li mettete perché dopo effettivamente l'aglio è per una cola allora ora c'è da fare una cosa faccio vedere quello è tutto l'aglio cotto ora c'è da fare una cosa che è il segreto di questa pasta si prende questo coltello questo bel coltello e si inizia a schiacciare tutto questo aglio così deve venire tipo una pappina vedete si schiaccia tutto l'aglio in questa maniera possibilmente usate un tagliere di perfono come questo perché se no se è di legno i sapori dell'aglio vengono presi dal legno invece rimane tutto sopra il tagliere una volta che si va a mettere nella pasta si insaporisce tutto meglio una volta che si è bello spiaccicato così vedete è come se fosse una pappina aspetta che quei cinque minuti passi e una volta che sono passati cinque minuti la pasta invece di scolarla si mette direttamente nell'olio vedete come è venuto guardate l'aglio deve venire così questa bella pappa di aglio allora si prende due o tre ciocchettine di prezzemolo già lavato questa mezza roma ecco l'alexa speditane 5 minuti sono passati allora ora invece scolare la pasta cosa si fa si prende le nostre belle pinze si accende il fuoco dell'olio e si inizia a mettere la pasta dentro la padella così sembrerà strano ma non ne rimane mai nemmeno un filo dentro la padella con questo sistema una volta che si prende la pasta e si è buttata qua si può prendere la pentola e l'acqua ma non si butta via l'acqua perché quella ti chiederà per finire la cottura e per fare in modo che venga un filino non differente con l'amido della pasta praticamente riesce a venire fuori in un suddetto veramente spettacolare poi si prende il nostro aglio e si inizia a mettere dentro così a questo punto si inizia a lavorarlo un po' e con il romaiolo si inizia a aggiungere un po' di acqua e si inizia a lavorarlo un po' di acqua che profumo! un po' di acqua poi facciamo un po' di acqua in modo che l'aglio si mescoli bene con la pasta vedete il filino qua? vedete? questo è il suo cambio della pasta e si lega con l'aglio e si mette fuori questo suggerito è molto differente che è veramente merizioso assaggiamo un attimo perché perfetto facciamo un po' di acqua facciamo un po' di acqua facciamo un po' di acqua quando arriva pienamente la pasta e il cuore di acqua più vi piace possibilmente buona il vento però non è più di acqua di acqua grazie a noi stendete il tutto che ci sono fatto con ce l'acqua ok praticamente una volta finito prendete il pezzemolo e ci rispolverate un pochino sopra così e poi dovete lavorare in questa maniera la pasta è bella provata vedete come va la sudosa lo spettacolo trovate e poi le farete sapere grazie per la visione grazie